Ah tu il CAC, bravo! E poi? Ah, migliore di razza, sì, sì. Dai, chiacchierata! Ci sono le qua. Come è successo domenica? Come è andata domenica? Bacco, domenica come è andata? Hai preso il CAC! Ehi, hai fatto primo! E poi? Sì? Quando? Ah, c'è questa esmeralda? Sì, c'è questa esmeralda! Sì, c'è questa esmeralda!